Oggi inizia la settimana in laudato sì. Ringrazio il Dicastero per il servizio dello sviluppo umano integrale e le numerose organizzazioni aderenti e invito tutti a collaborare per la cura della nostra casa comune. C'è tanto bisogno di mettere insieme competenze e creatività. Ce lo ricordano anche le recenti calamità come le inondazioni che hanno colpito in questi giorni l'Emilia-Romagna alla cui popolazione rinnovo di cuore la mia vicinanza.